Eh, io lo so che a voi piace vederci arrabbiati e incattiviti, vederci lamentare di ciò che riguarda il mondo Magic the Gathering, lo so. Quindi io chi sono per privarvi di tutto ciò? Eschiera tutti da Moxie, benvenuti o bentornati su HMC Magic Masters. Considerate questo video una specie di parte 2 del discorso di Omega riguardante la qualità dei prodotti Wizards, eccetera, eccetera. In realtà io voglio concentrarmi su un altro aspetto della questione, che però è strettamente collegato con le sue parole, quindi facciamo una cosa unica, ok? Di cosa andremo a parlare oggi? Non voglio girarci tanto attorno, andremo a parlare della quantità disastrosamente astronomica, oserei dire, di prodotti che Wizards fa uscire durante l'anno. E attenzione, non sto parlando di cose tipo Secret Lair, non Secret Lair, perché anche quelli sono tanti, ma non è di questo, bensì delle espansioni canoniche. In questi giorni è uscita l'espansione Assassin's Creed e Universities Beyond, che noi non abbiamo acquistato per il puro fatto che non ci interessa quel mondo lì, ok? Quello del Signore degli Anelli l'abbiamo comprato proprio così, a uffa, come si dice qua in Piemonte, a oltranza, ma a Sunsis Creed non ci interessa, quindi non l'abbiamo acquistato. Ma, ma, un mese esatto fa usciva Modern Horizons 3, e tra una ventina di giorni uscirà Bloom Burrow, Bloom Burrow, quello con gli animaletti carini, to, ci siamo capiti. Quindi in tre mesi escono tre espansioni, eh? Tre! Non una, non due, tre. E peraltro espansioni di parecchio calibro, perché abbiamo un Horizons, voglio dire tanta roba, un Universities Beyond, che può piacere, può non piacere, sono d'accordo, non sono d'accordo, ma è soltanto per attirare gente, per vendere i prodotti, ok, ma intanto qualcuno la sta comprando, e un'espansione canonica, che sarà appunto quella di agosto. In tutto questo, infilateci in mezzo i Secret Lair, quello che volete, non so se usciranno anche altre cose, stavo per dire i mazzi commander, ma mai i mazzi commander escono con ogni espansione, tipo anche con Modern Horizons, Wizards, mi spieghi perché, mazzo commander di Modern Horizons, Commander, vabbè, lasciamo stare, questo è un altro discorso. Però, infilateci insieme, anche tutto il resto che Wizards può avere annunciato, sono una caterba infinita di prodotti. Eh Moxie, hai scoperto l'acqua calda, ma no, lo so che è così da un bel po' di anni, però mi andava comunque di parlarvene, per vedere quale potesse essere la vostra opinione a riguardo. Dato che comunque sotto questi video c'è sempre un grande scambio di opinioni, più o meno educate, e dopo ci torneremo, perché, piccolo spoiler, se sotto i nostri video scrivete la vostra opinione, e noi riteniamo che sia poco appropriata, sono anche autorizzata a citarvi suddette opinioni. Dopo ci torneremo. E tutto questo discorso nasce dal fatto che l'altra sera io e Omega ci stavamo confrontando sulla cosa fare per la versione extra, la parte extra dell'archivio mistico, per Modern Horizons 3. Ci siamo detti, eh, dobbiamo farla in fretta, perché ormai, se no diventa vecchia l'espansione. Poi ci siamo guardati e abbiamo detto, no, ormai è già vecchia questa espansione, perché ce n'è già un'altra. Neanche 20 giorni ed è uscito qualcos'altro. E ripeto, non un Secret Lair barra un mazzo Commander 2024 che dici, vabbè, ok, è un prodotto diverso. No, proprio Universis Beyond con carte a parte, con magari meccaniche a parte. Vi chiedo scusa, sono poco informata su questa cosa, proprio perché non essendo fan di Assassin's Creed non ho guardato più di tanto, ma se la cosa è stata svolta come per The Lord of the Rings, ci saranno carte a parte, meccaniche a parte, cose a parte nuove, che sono uscite 20 giorni dopo Modern Horizons 3, che per quel che mi riguarda, e credo che sia un'opinione abbastanza diffusa, è stata e sarà l'espansione di punta del 2024. Perché diciamo tutto quel che ci pare, però le carte di Modern Horizons, secondo me, non si battono. Mai, mai. E io sono convinta che neanche il tempo di aprire i pacchetti di Assassin's Creed, che subito arriveranno i prodotti di Bloom Burrow. E io qui mi metterei nei panni non del collezionista, non dell'appassionato, non del fan, non del content creator, un attimino e parliamo pure di questo, ma mi metterei nei panni del semplice giocatore, che magari ha visto quella carta, che vuole testare, nei suoi mazzi Modern Commander, quel che vi pare preferiti, l'ha acquistata, magari più copie, e subito diventa inefficace, o subito va sostituita, va migliorata, viene completamente distrutta la strategia nuova che lui aveva ideato, basandosi sulle carte appena uscite, perché altre carte sono uscite subito dopo. E quindi questa cosa ti lascia con quell'amaro in bocca, che dici cavolo ma allora sono io che non sono capace a costruire i mazzi o a giocarli, i miei mazzi, o c'è qualcosa di più? Sono io che non vado bene o devo continuamente comprare cose per potermi migliorare? E si innesca questo meccanismo tipo pay to win, a parer mio sempre, attenzione, che non è secondo me la base di Magic the Gathering, assolutamente, non è il concetto di questo gioco, non è mai stato almeno, fino a qualche tempo fa, il concetto di questo gioco. E per quanto riguarda la sfera content creator, diventa difficile anche per noi, ci mettiamo, mi metto in mezzo, perché un conto è essere sponsorizzati da Wizards, e questo è un dato di fatto, è molto più semplice creare contenuti riguardanti prodotti di Magic the Gathering, banalmente degli opening, mazzi da testare, cose del genere, se si è sponsorizzati da Wizards, perché essendo bombardati di prodotti così di continuo, un conto è me li mandano gratis, un conto è devo pagarmeli, ci mette tutti sullo stesso piano, si inizia poi a quel punto a decidere cosa comprare, cosa non comprare, se si è un giocatore normale, un collezionista normale, mi sta anche bene, ma se si è nella sfera creator, è un conto è se lo si fa come lo facciamo noi, cioè come passione, come hobby, e allora va bene, ma se si punta a guadagnare con questa vita, diciamo così, con questo lavoro, non potersi comprare certe espansioni, che magari potrebbero attirare gente, quindi procurare visualizzazioni, si riduce tutto in perdita di denaro, in troiti che se ne vanno, perché non si riesce a star dietro, alle uscite del mondo di Wizards, ma questo discorso io ve lo voglio portare, con dati alla mano, adesso vedrete la mia faccia illuminata d'immenso, perché ho aperto una pagina internet, oh mio dio, ho preso in esame, gli ultimi dieci anni, di Magic the Gathering, per farvi vedere, quante espansioni uscivano dieci anni fa nel 2014, e quante ne escono oggi nel 2024, per l'esattezza nel 2014, sono uscite, Born of the Gods, Journey into Nyx, Conspiracy, Magic 2015, e Cans of Tarkir, Vintage Masters, o Commander 2014, sono quelle cose in più, non le calcoliamo come espansioni, però comunque, le espansioni canoniche sono cinque, invece quest'anno, attenzione perché è uscita Ravnica Remastered, Murders of Karl of Manor, Ravnica Clue Edition, che credo abbiano comprato soltanto gli appassionati di Cluedo, Universes Beyond Fall Out, Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Universes Beyond Assassin's Creed, Bloomborough, Dusk Morn House of Horror, e infine Magic the Gathering Foundations, e poi vabbè, robe su Arena, che ok, d'accordo, direi il doppio, il doppio, e sono veramente, veramente tanti. E qui torniamo al discorso di Omega, che è in sintesi, quality over quantity, di solito, qualità batte quantità, cosa che Wizards, ultimamente, no, ma arriviamo, arriviamo, a quello che vi dicevo prima, cioè, i vostri commenti, cioè, non di tutti, di un paio di persone, che si sentono triggerate da questa cosa, perché? Perché nonostante io dica, eh, però Wizards, fai uscire tante cose, tante cose non sono belle, bibibababababà, io comunque le compro, perché, nonostante tutto, io sono libera, di comprare, di spendere, i miei soldi, come meglio, credo, rimane il fatto, che, se vado a investire, 400 euro, in un prodotto premium, mi aspetto, mi aspetto, che quel prodotto, effettivamente, sia premium, perché non è soltanto, la questione di, posso trovare carte, più belle delle altre, più forti delle altre, per i miei mazzettini, di figurine, ma è proprio una questione di, se sto comprando, un collector edition box, quindi non è il classico box, di espansione, se è collector's edition, io lo voglio, da collector's edition, perché, i primi che facevano, erano, penso, il prodotto, più bello, di sempre, bene, certe persone, si sentono triggerate, dal fatto, che io possa comunque, decidere di, spendere i miei soldi, come meglio credo, e arrivano a scrivere, certe cose, preparatevi, le comprereste pure, con un pezzo di cacca, spalmato sopra, complimenti, e, attenzione, non vorrei sembrare, presuntuoso, ma, questo ma, la colpa, è di chi ancora, compra le carte, manco mia madre, mi dice queste cose, di chi compra le carte, vabbè, siete inondati, di prodotti mediocri, sbilanciati, di qualità pessima, ingannevolmente, inclusivi, ed esclusivi, ok, e ancora, continuate ad aprire, il portafoglio, magic, ha iniziato, un lento e costante, declino, da quando la wizards, è stata acquistata, dall'asbro, sangue, contro oro, ok, parliamone, riflettiamo, su queste, due opinioni, perché sono opinioni, io, posso decidere, di accettarle, di non accettarle, sono opinioni, ma benissimo, e, parliamone, li acquistereste, anche con un pezzo di cacca, spalmato sopra, sì, nel senso, non uso i tuoi soldi, uso i miei, faccio quello che mi pare, la colpa è di chi, ancora acquista le carte, perché, tu, che quindi, non acquisti le carte, perché se io seguo i ragionamenti, di queste due persone, loro non acquistano carte, perché tu, che allora non acquisti carte, perché la wizards, è brutta e cattiva, e vuole solo guadagnare, va, a guardare un video, di due deficienti, con le maschere, che parlano, di carte, cosa che loro non acquistano, non è che forse, tu, che ti senti tirato in causa, vorresti comprarle le carte, e allora vai a inveire, contro quelli, che ancora le comprano, dicendo che è colpa loro, se wizards, è una merda, parole loro, è colpa degli altri, è colpa loro, che continuano, questo circolo vizioso, se tu non compri le cose, allora wizard, dice, giusto, loro non comprano più niente, allora, forse è meglio che io, smetta di usufruire, di questa politica, così sbagliata, attenzione, non me ne ero mai accorta, ma secondo voi, secondo voi, se io smetto, di comprare carte, io, Omega, mio cugino, il cugino di mio cugino, ma secondo voi, la wizards, gliene può fregar mai qualcosa, parliamo di questo, piccolo aspetto, che forse, i giocatori, di magic, non hanno tutto questo, gran potere, su wizards of the coast, perché, alla wizards, non gliene può fregar di meno, se nessuno, comprerà a Bloom Burrow, perché, ci sono troppi animaletti pucciosi, e a me non piacciono, secondo voi, l'espansione dopo, wizards, non la farà uscire, perché dirà, aspettate, però non ho venduto, tantissimo di questa, sarà meglio che, rallento con le uscite, no, non gliene può fregar di meno, altrimenti, non farebbe uscire, 10 set all'anno, ne farebbe uscire, 5, come ha fatto per, non so, 15 anni, a questa parte, prima ne facevo uscire, 1 all'anno, sarà passata a 2, 3, poi a 5, poi a 15, cosa pensate che le ne posso fregare a wizards, non è smettendo di comprare le carte, che wizards si renderà conto, che forse, la gente non riesce più a starle dietro, e comunque sia, sono autorizzata, non a lamentarmi, però a rendere partecipi gli altri, del fatto che io, spendo i miei soldi, ricevo un prodotto pessimo, e poi decida di dire, vabbè, pazienza, se voi comprate una cosa online, e questa cosa non rispecchia, i vostri standard, lo dite, li mandate indietro, bene, ci è stato detto, che wizards ha questa politica, ora, io non l'ho mai testata, però qualcuno di voi, nei commenti sotto il video di Omega, ha detto che, si possono mandare indietro, i secret layer, non conformi, io non l'ho mandato indietro, ma perché qualcun altro, al mio posto, non può farlo, perché devo dare giustificazioni, al fatto che io, stia ancora comprando, le cose che mi interessano, con i miei soldi, e ovvio, non comprerò mai tutto, perché comunque, come dicevamo, sono veramente troppe, le cose da comprare, ma quelle che mi interessano, voglio prenderle, e le voglio con un determinato standard, tutto lì, se wizards facesse, meno prodotti, ma li facesse meglio, saremmo tutti più contenti, e non ci sarebbe da fare, questi video, interminabili, di scleri, di gente, che spende soldi, e si sente dire, è colpa tua, perché hai speso i soldi, io spero, che voi abbiate capito qualcosa, del mio discorso, sono sicura, che molti lo condivideranno, e molti altri, si sentiranno indignati, e in dovere, di scrivere, che io sono una brutta persona, perché spendo i soldi, in cose, che poi, non sono come le volevo, e se io non lo facessi, allora, vabbè, insomma, ci siamo capiti, non dimenticatevi, di lasciarci un like, e un commento, perché è quello che vogliamo, sotto questi video, vogliamo sentire, le vostre opinioni, e anche, di iscrivervi, perché a 5.000 iscritti, togliamo ste maschere, che ripeto, iniziano a essere, un po' eccessive, passate da tutti, i nostri link, in descrizione, car trader, ateca, archivio mistico, donazioni, eccetera eccetera, io vi mando un grosso bacio, ciao dalla vostra Moxi, e alla prossima! Ciao!